Se si può presentare... Io mi chiamo Luciano Mossotto, sono un pensionato statale, ex insegnante. Bene, allora ieri Napolitano è stato a Torino, il valore di questa visita? Non so se hai sentito le parole che... Dunque io purtroppo non ho potuto partecipare perché sto facendo delle applicazioni di ultrasuoni proprio in quell'ora lì, ma sono un ammiratore di Napolitano da tanti tanti anni. Anche se non sempre prima condividevo le sue idee, come Presidente della Repubblica mi pare uno dei migliori. Il valore, ieri hai fatto ovviamente un richiamo ai valori della Costituzione, qual è il valore della Costituzione oggi? Il valore della Costituzione oggi secondo me è rimasto intatto sulla capra, nel senso che la Costituzione non viene poi applicata soprattutto nei principi fondamentali. Questo è il mio giudizio non solo di oggi ma anche di ieri. Cioè esiste una Costituzione, diciamo materiale dicono, che tende ad allontanarsi sempre di più dalla Costituzione.